Aggressività. Il mio cane non fa entrare nessuno in casa. Cosa devo fare? Quando entra qualcuno, gli abbaia e lo fa scappare. Il presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Il problema di cui parliamo oggi è molto comune, fa i proprietari con cani con qualche problema di aggressività o di tendenza all'aggressività. Le cose da capire sono se il nostro cane è stato ben socializzato, se ha problemi sempre con le persone o solo in questo contesto. Sembra un parametro di poco conto ed invece è importantissimo. Infatti questo problema potrebbe derivare da una mancata o da una scorretta socializzazione nei confronti delle persone e quindi essere circoscritta alle persone per esempio con il cappello, alle persone con il cappuccio e via dicendo. Oppure potrebbe essere circoscritto solo alle persone che entrano in casa. Dobbiamo quindi osservare cosa fa il cane quando arriva una persona a casa. Di seguito vi elenco alcune possibilità. Quando arriva la persona il cane gli si fionda addosso, quando arriva la persona si nasconde, tende ad allontanarsi e poi abbaia se la persona tende ad avvicinarsi. Queste sono le due situazioni che accadono quando il cane ha avversione verso le persone che entrano in casa. Le due modalità hanno il minimo comune denominatore della paura, solo che viene proposta in maniera diversa. È nostro dovere di proprietario rendere l'episodio il meno traumatico possibile per il cane ma anche per la persona che deve entrare in casa. Voglio darti qualche piccolo consiglio su che cosa fare. Se sai a che ora la persona deve arrivare, fatti telefonare, evita di far suonare il campanello per non far andare in allerta il cane. Calma il cane e prima che entri la persona vai sul pianerottolo e aspettala. Tieni il cane dietro le tue gambe con il guinzaglio, ovviamente l'asco. Quando arriva la persona stringi la mano per far vedere al cane che è un amico. Fatto ciò fai entrare la persona in casa per prima e poi entra tu con il cane. Fai accomodare la persona in soggiorno, meglio seduta con le gambe sotto il tavolo, vai in cucina con il cane e premialo con dei gustosi bocconcini. Sgancia il guinzaglio e sediti vicino alla persona. Osserva il tuo cane e se è tranquillo premialo. Questa procedura operativa serve per far stare tranquillo il cane e per non farlo intimorire ancora di più verso le persone. chiaramente è un problema che va affrontato con un educatore cinofilo esperto di educazione comportamentale per essere risolto. Spero che questo video vi possa essere stato utile. Continuate a seguirci sui nostri canali social e sul nostro canale di youtube.